buongiorno ragazzi questa mattina mi piacerebbe condividere con voi una canzone che in questo periodo è particolarmente virale in spagna è stata composta da lucia hill che ha pubblicato su instagram le parole di questa canzone che ha scritto durante il periodo di quarantena e che adesso è diventata veramente virale presente sui social su facebook su youtube su instagram vi invito a guardare attentamente le immagini del videoclip e in alto troverete il testo in basso vi ho scritto anche la traduzione in italiano ascoltiamo insieme ragazzi Grazie a tutti. 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 No te rindas, no te canses, devi dir... Ok, Sergio, vuoi fare un saluto? Ciao amici, cari ragazzi, ragazze, genitori, famiglie, la Vergine Maria vi protegga ora e sempre, siate sempre uniti a noi, sappiate che noi ci siamo sempre salesiani, insegnanti, indegni portinai e compagnia bella. La Madonna sia sempre con voi, Don Bosco vi ama e vi aspetta nella sua casa ora e sempre. Ciao. Ciao, ciao Sergio, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.